40 anni un anniversario importante assolutamente sì diciamo che sono i nostri primi 40 anni da qui vediamo sicuramente di raddobbiare il nostro il nostro anniversario per l'ottantesimo intanto siamo molto felici e orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo camminando sulle nostre gambe ecco oggi cos'è Stemas? Stemas è un'azienda di 50 persone che tutti i giorni si impegna per soddisfare i clienti in tutto il mondo da nord a sud da est all'ovest aspettiamo che questa pandemia passi e ci permetta di continuare a viaggiare per il mondo e continuare a spedire le nostre macchine in tutti i dati dell'universo. Ci racconta qual è la vostra specializzazione? Allora Specialis Aura Stauber innanzitutto il nostro motor e comunque sia i nostri prodotti di punta sono lavorazione di elementi stretti, bordatura di testa, foratura e inserimento di attaccaglio di spine di legno, lavorazione sul pannello porta, stipiti quindi scasso serratura, foro chiave e maniglia e macchine per alta produttività normalmente tutte le macchine sono per grandi industrie o medie industrie non lavoriamo con piccoli artigiani quindi progetti chiave in mano dalla tavola di legno fino alla porta finita o all'elemento finito da mobile. Stiamo parlando di soluzioni di alto livello tecnologico? Altissimo livello tecnologico parliamo di soluzioni che vanno fino alla gestione di 150 assi controllati su ogni singolo macchinario quindi riusciamo a offrire soluzioni tailor made dalla piccola media industria fino alla linea completa come dicevo prima di quasi 200 assi che danzano simultaneamente su un unico macchinario. E per i prossimi 40 anni? lo stesso continuando a migliorarci con tanto vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti